L'insonne dal personaggio creato da Giuseppe Di Bernardo e Andrea Polidori Ottavo episodio Anima di China di Giuseppe Di Bernardo Con chi ama la notte, con chi vive la notte, con chi non dorme la notte Da es di metus all'insonne su rego steve La notte, con chi vive la notte Pino è un mio ascoltatore ed è un disegnatore di funetti Ha iniziato a disegnare sui banchi dell'asilo E l'unico bel ricordo di un'infanzia difficile È legata a quel giorno in cui la maestra aveva fatto vedere alla sua mamma Il bel disegno che aveva appena concluso Pino aveva letto negli occhi della madre L'orgoglio di avere un bambino così bravo a dipingere Quanto a scatenare l'invidia dei suoi compagni Uno di questi, Enrico, il più invidioso Aveva staccato il disegno dalla parete dove era appeso E l'aveva fatto in mille pezzi Pino l'aveva raccolto e con l'aiuto della mamma Lo aveva ricomposto come un paso Ma il giorno dopo, all'ora della decreazione Le maestre e tutti i bambini della scuola Vissero uno dei giorni più spaventosi della loro vita Le grida dei più piccoli vennero sovrastate dall'urlo di spavento di una bidella Enrico avanzava dondolando goffamente nel vialetto Si teneva la gola Ed emetteva un gorgoglio simile ad un gargarismo Poi improvvisamente cadde E una macchia rossa si allargò sul selciato Il bambino era morto per uno stupido incidente Sul reto della scuola era inciampato E si era tagliato la gola su delle mattonelle rotte e abbandonate nel prato E si era tagliato la gola su delle mattonelle rotte e abbandonate nel prato Pino aveva passato la sua infanzia a disegnare Trasformava pagine di quaderni in tavole a fumette Piene di eroi e vendicatori in calzamaglia Astronavi giapponesi e buffi eleni In questa sera banda di personaggi Si stava facendo lentamente spazio quello che avrebbe cambiato la sua vita Yurei Pino con la sua cartellina piena delle tavole di Yurei Si era presentato ad una infinità di case editrici Ed una di queste aveva pubblicato il primo episodio Dove la giovane Gesha viene violentata da un ricco mercante veneziano E lei per vendicarsi inizia un duro allenamento che le consente di diventare una spietata ninja Purtroppo l'editore non era soltanto piccolo ma anche disonesto Così in 448 chiuse bottega e scappò Portandosi via i pochi soldi guadagnati E tutte le tavole originali Pino non soffriva per il denaro perso ma per la sorte di Yurei Ad una creatura di carte e china era stata data un'anima Era stata fatta violenza Ma per la scelleratezza del suo editore le era stato impedito di vendicarsi Come un fantasma Yurei aveva iniziato ad ossessionare Pino Lui l'aveva creata e le aveva fatto vivere quello stupro Ora lui doveva permetterle di vendicarsi Intanto Pino era diventato un disegnatore di fumetti vero Lavorava per un'importante testata E stava riscuotendo gli interessi di un'infanzia passata a disegnare Invece che a rincorrere il pallone in un cortile Ma nella sua mente c'era sempre Yurei Così era stato presentato un nuovo editore Un tipo rozzo, un industriotto di provincia Uno di quelli convinti che il resto del mondo sia formato da imbecilli Ma che non beccano un congiuttivo giusto neppure per errore Più volte Pino si era sorpresa a pensare che quell'uomo i libri li stampava Ma di certo non li leggeva Comunque decise di pubblicare Yurei Non perché fosse affascinato dalle suggestioni orientali E dalla poesia disperata che emanava quel personaggio Ma perché credeva si trattasse delle avventure erotiche di una geisha La serie venne inaugurata con tutti gli onori Anche se l'editore in privato non perdeva occasione di dire a Pino Quanto quelle strane avventure fossero troppo cervellotiche E soprattutto con poco sesso Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché qualche giorno fa Pino mi ha chiamato Era in lacrime L'editore era fermamente deciso di interrompere la serie Non vendeva abbastanza Anche se il pubblico e la critica ne andavano pazzi Pino mi aveva scongiurato di accompagnarlo dall'editore Per un ultimo disperato tentativo di fargli cambiare idea Forse la presenza di una giornalista l'avrebbe aiutato a convincere quell'uomo Yurei aveva il sacrosanto diritto di vendicarsi L'appuntamento era per le sei del pomeriggio Nell'ossuoso attico che da sullungarono si ristori Come mio solito arrivai all'appuntamento con una ventina di minuti di ritardo Il buio era già calato quando mi trovai a suonare il campanello Nessuna risposta Il portone del ricco edificio era aperto Così raggiunsi velocemente l'ultimo piano dove era la sede della casa editrice Anche qui la porta era aperta Ed entrai Le luci erano accese Le stanze erano vuote Tutto era immerso in un silenzio Rese ancora più reale dal freddo che sentivo Una lama di vento e gelido si inetteva da qualche finestra Che probabilmente era stata dimenticata aperta Ma dove diavolo erano finiti tutti? Forse avevano fatto davvero troppo tardi e se ne erano andati? Probabile Presi il telefonino e composi il numero di Pino per chiamarlo e scusarmi Mentre componevo il numero speravo con tutta me stessa Che l'editore avesse dato un'altra possibilità agli orai E che le permettesse finalmente di riscuotere una vendetta Che solo gli eroi di carta sono autorizzati ad esigere Sentì chiaramente il suono del cellulare di Pino Arrivare dalla stanza in fondo al corridoio Evidentemente era ancora lì Ma non rispondeva Decisi di entrare Per capire che cosa stesse accadendo in quella inquietante casa editrice Busse alla porta Ma nessuno mi rispose Così spinsi la porta che era appena accostata Che faceva filtrare quella lama di vento e gelido Che mi faceva venire la pelle d'oca Pochi secondi dopo non fu più il vento a farmi raggelare In un angolo della stanza Pino era rannicchiato a terra Tutto tremante e completamente coperto di sangue Corsi da lui chiesi se fosse ferito Non rispose ma mi accorsi che ripeteva qualcosa a denti stretti Qualcosa che suonava come Ucuscio Qualsiasi cosa volesse dire quella parola Doveva essere qualcosa di veramente importante Perché era stata ossessivamente tracciata Col sangue sulle pareti della stanza e sul pavimento Immediatamente un altro pensiero si fece largo A spallate nella mia testa Se tutto quel sangue non era di Pino Allora di chi era? Mi voltai verso la grande scrivania in mogano nero Che troneggiava al centro della stanza Dal tavolo gocciolava un liquido che aveva formato una piccola pozza a terra Risalì con lo sguardo il rigolo rosso che mi condusse alla testa dell'editore Che mi guardava con la bocca spalancata in una smorfia che era un misto di stupore e disapprovazione La stessa espressione che probabilmente aveva mente sfogliava gli albi a fumetti di iurei La testa, recisa dal corpo con un colpo secco alla base del cranio Era appoggiata con cura su una pila di albi a fumetti Il corpo era abbandonato sulla poltrona E sembrava quasi felice di essersi allontanato finalmente da un cervello che neppure lui sopportava Mi alzai e anche se quello che avevo sullo stomaco sembrava voler fare quattro passi in completa autonomia Mi feci coraggio e mi avvicinai al corpo dell'editore Tra le mani teneva ancora due brandelli di un foglio di carta Cercai di capire di che cosa si trattasse Evitando con attenzione di inquinare troppo la scena del crimine Sì, anche io ho visto qualche episodio di CSI Quello che l'editore aveva appena strappato era un foglio di carta che nella sua storia aveva già subito un'esperienza simile Era già stato strappato e poi rimesso insieme con dello scotch in una paziente amorevole opera di restauro Quello che c'era disegnato sopra mi lasciò senza fiato Con un tatto infantile ma chiarissimo il disegno rappresentava una bellissima donna in abito orientale armata di una lunga spada Quella donna era Iorei Fu in quel momento che indietreggiando mi trovai accanto alla finestra aperta Mi parve per un istante di vedere una figura snella, sinuosa Che armata di una katana si allontanava sicura saltando da tetto a tetto al solo chiarore della luna Pino è stato accusato dell'omicidio L'ossessione per il suo personaggio l'ha reso così folla da spingerla a vendicare personalmente l'onore del personaggio che aveva creato Probabilmente in un ultimo disperato tentativo aveva mostrato all'editore il disegno fatto da piccole che rappresentava già allora la bella Iorei Una vera missione, una fissazione che aveva corrotto la sua mente e l'aveva spinto a fondo nel mare della follia Un mare nero come l'inchiostro di China e nel quale si era immerso, forse per la prima volta, tanti anni prima, sul reto di una scuola elementare Per la tradizione giapponese Iorei è il nome di uno spirito femminile, uno spirito vendicativo Un fantasma che vive in una terra di mezzo, un luogo ambiguo e incerto che ha solo dei punti di confluenza con il nostro mondo Quando rabbia o desiderio di vendetta lo impregionano, lo spirito infesta la mente di chi lo ha creato fino a che giustizia non viene fatta Ucush, vendetta Ucush, vendetta Pino è stato posseduto dalla stessa entità che ha creato Oppure è un pazzo che ha decapitato il suo editore e che tanti anni prima ha sgozzato un piccolo compagno di classe Entrambi colpevoli di aver offeso la sua creatura Non lo so So soltanto che la polizia, malgrado le ricerche minuziose, non ha trovato l'arma del delitto E che con molta probabilità tagliare la testa dell'editore è stata una lama affilatissima La lama di una catana La lama di una catana